Amore, che fine hai fatto? Che c'ho avuto un fortissimo attacco di pupù, guarda, non me ne parlare, ci vediamo in albergo. Ma il regalo? Amore, sceglielo tu il regalo, lo sai che preferisco la sorpresa? Amore, ci ho ripensato. Tu dici la sorpresa, è meglio me lo scelgo da sole, regalo, perché poi io conosco la misura, sto fa il colore, e poi se non va bene o devi cambiare, c'ho lo scontrino, non c'ho lo scontrino, e quello non tu vuoi cambiare, tu ci devi andare di gambe, devi incazzarmi, rovino il Natale, dove lo vieno pure a te, anzi sai che ti dico, già mi girano le palle, me la vado in albergo, comprami quello che ti pare, ciao! Ma, ma... Ma chissà, Mission Impossible. Hai comprata la camicia? Perché hai comprata? Per papà che rinestatore?